Ciao amiche e amici del canale La Voce dei Laziali, qui in Brasile abbiamo vissuto nella domenica scorsa la giornata finale della fase a girone del campionato paulista in regionale di San Paolo. L'ultimo capitolo di questo romanzo è stato ben emozionante, detto che le squadre qualificate hanno confermato la posizione in classifica nell'ultima giornata. Come è successo con il Corinthians, maggior vincitore del campionato regionale di San Paolo, avendo vinto ben 30 volte, ma che in questa stagione è stato al di sotto delle aspettative, correndo seriamente il rischio anche di retrocedere nella Serie B regionale. Ma che dopo aver battuto il Palmeiras nel principale derby del Brasile, è arrivato all'ultima giornata sperando per poter andare avanti oltre alla sua vittoria contro l'Oeste e doveva sperare nella vittoria del San Paolo contro il Guarani. Entrambi i risultati sono stati favorevoli, così sono riusciti a qualificarsi. Il Corinthians ha battuto l'Oeste, vediamo adesso il gol. Il primo gol della squadra corinthiana è nato da un cross effettuato da Luan, in un colpo di testa dentro dell'area piccola di Danilo Avelar, al secondo minuto del recupero del primo tempo, 1-0 per il Corinthians. Davanti all'area di rigore calcia fortissimo Ederson e segna al novantesimo minuto, finisce così Corinthians 2-0. Nel gruppo del Corinthians si sono classificati lo stesso Corinthians ma al secondo posto, mentre al primo posto si è classificato il re di Bu Bragantino, un'agradevole sorpresa possiamo dire così di questa stagione, di questo campionato. Il San Paolo a sua volta ha vinto la partita contro il Guarani e ha dato il suo contributo a rivale. Il primo gol è stato dal San Paolo, vediamo adesso. Hernanis entra nell'area di rigore e tira forte, il porterino e spinge la pala proprio sulla testa di Everton, che realizza al dodicesimo minuto il gol dell'1-0 per il San Paolo. In un'occasione quasi uguale, Crispin tira dalla mezzaluna e il porterino e spinge Raffaele Lesto a calciare sulla riba tutta tirano forti, segnando il gol dell'1-1 al quarantesimo minuto. Eligno riceve la pala e calcia, al quarantotesimo il gol del 2-1 per il San Paolo. A limite dell'area di rigore e Pauligno calcia una pala molto angolata e realizza il gol del 3-1 per il San Paolo al sessantotesimo minuto. In questo gruppo si qualifica il San Paolo in prima posizione e il Mirasol come seconda. Queste due squadre si affronteranno oggi, come è il caso anche del Palmenas, che domenica ha battuto l'Acqua Santa in casa e ha confermato il passaggio alla prossima fase come prima del gruppo. Ora vediamo il gol. Dada ha crossato la pala nell'area di rigore e Lucas è stato più veloce della difesa bianco-verde, realizzando al 52esimo minuto per l'Acqua Santa il gol dell'1-0. Il Palmenas ha risposto, palla alla punta destra, Marcos Rocha cross nell'area di rigore, colpo di testa di Ramiris e al 66esimo il Palmenas pareggia. All'86esimo minuto Wellington tocca con la mano la palla, il rigore viene confermato a favore del Palmenas. Ricordiamo che a questo punto del campionato non abbiamo il VAR, ma come possiamo vedere il rigore netto. Luiz Adriano calcia, parata dal portiere ma sulla rispinta Luiz, la mette in rete per il Palmenas, si chiude così l'incontro. Palmenas 2, Acqua Santa 1. Nel gruppo si qualificano Palmenas e Santo Andrè che si incontreranno anche loro mercoledì, quindi oggi a San Paolo per giocare i quarti. Abbiamo qui tutte le partite della prossima fase. Mercoledì, quindi oggi giorno 29, San Paolo e Mirasol nel Monumbi a San Paolo alle 19, orario sempre brasiliano. Anche oggi, ma un po' più tardi, Palmenas e Santo Andrè all'Allianz Park a San Paolo alle 21.30. Giovedì, domani, giorno 30, Redibu, Bragantino e Corinthians a San Paolo alle 19 e alle 21.30 vicino alla spiaggia nel litorale brasiliano Santos e Ponte Preta. Chiudendo così le quarti di finale. Ricordiamo nuovamente che a questo punto abbiamo gare uniche fino alla finale che invece vedrà il doppio confronto casa e trasferta. Torneremo presto con nuove informazioni. Ennio Ricanello dal Brasile per il canale La Voce dei Laziali.